difesa fra se ti trovi davanti uno più veloce di te cerca di non azzeccarti troppo a lui non devi quasi mai stoppare c'è prima il triangolo e fai la stoppata perché ti scopano con le finte e la gente online cerca di tenere la levetta destra alzata e quello comunque fa un po un contrasto di tiro poi quando sei sicuro che lui sta tirando fai la stoppato no perché si è messo le cuffie che voler chi ha svento la no io le vedo ok a me c'è le cuffie ancora tra ma biagioli si era buggato a bevo non so troppo forti da si può fare si può fare tanto affetto tra le 83 penso a meggio la dice non sono davanti e passa ok allora poi c'è la vita a cima a freccia destra a per tu che è bassa fatto notte vabbè fatti l'azione di pensiero di prendere un attimo a questo blocco la luce fra lo fa sempre perché basta blocco illegale ok la frase destra rd metti tu che è bassa in realtà mi trovo ma io ho fatto che anche per i primi cerchi vabbè come ti trovi tu e dai e cominciano ragazze che tu stavano e google ciao ma cominciamo si va bene passa fuori passa con me bravo la cosa vuoi che a volte la possiamo pure passare sotto quelli vengono addosso a te che magari penso che tu puoi tirare tu la passi fuori a noi e fai anche un bel po di assist poi infatti io ti ho fatto in modo che c'è anche una buona precisione passaggi passaggi nooo a me a me a me ok ti vedo ti vedo non ti preoccupa easy e comunque capi carlo gli ha sbloccato pure il distintivo passatore generale in campo che quindi pure quando ce la passerà massimo ci va a fare più assist anche lui quando si alzerà il passaggio uno sarà più alto di un avendo dal bar e no ragazzi vedi è quello che ti ho detto non premere triangolo quasi mai ecco una prima volta basta chi sei davanti ti hanno venuto l2 e alzi semplicemente l'analogico e quello lo contrasto abbastanza bene dai buona buona siiii si 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 mi sono detto che triple ce l'abbiamo ce l'abbiamo eeeeeh ma fa io c'ho 78 e carlo c'ha tipo 75 76 questa è una scuola in velocità è una scuola in velocità è veloce questo guarda fai un movimento qualcosa ma era buona guarda fai contro un tizio cross e comunque c'è tipo 86 quindi osp fammi vedere oh ma come fallo stava falleggiando malissimo c'era facilmente vabbè comunque assieme a te io e carlo abbiamo tipo la build quasi uguale c'è tipo la differenza è che ci hanno scopato qua bravi loro piaggio dipende meglio è il mio carlo più bravo in penetrazione il mio è un po' più forte in difesa però sono uguali letteralmente uguali basta da carlo bravo bravissimo vedi easy dai siiii vai sotto quelli ti vengono addosso la passi praticamente eh capi la tattica è qui sta c'è ce la giochiamo proprio bene no c'è impeto questo contro di me pure è il tuo stesso impeto visto eh vedi guarda quando c'hai l'impeto vedi no non lo fermi quell'impeto la del tiratore in posto è molto forte questo è il gancio comunque questo è il gancio quello che ti dicevo io lo fai in avvicinamento eh questo è il mancio mancino vai mi tira no no vieni qua vieni qua no bobo godo la premaggia di massimo tirata 3 fra e segnava con 25 l'unica trama che avrebbe mai segnato il suo gioco un segnico settando questo gioco segnavo 70 bravo sto di qua eccomi ecco la fabbia è stato davanti attiverò orca droga non tenere troppo la palla perché la scuola è fermato il tipo devo andare dentro e poi scaricare però tieni premuto e le due per proteggere palla come su fifa alla fine che sono scoprono la palla capì che poi c'è i se scarsi ma che questi due collina è un bravo 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 bravissimi peccato se la tirava segnali comunque è che quello si raffrara infatti infatti probabilmente sì però magari con l'impeto di stoppature ci poteva scopare ok saltato passa tutto vai bella bella pulita azione pulita ragazzi ciò l'impeto a me manca poco fra dove di fare i misteri venti si sbloccarti l'impeto rapido non saltare massimo non saltare non saltare solo a questo mi sono scopando ma questo è stato mezzura nell'aria fiscale fallo giuro breakare segni bruno 17 vario grande difesa concentrazione da terminavano su questo porco dio eh voi ma questo è fortissimo non ci ho sapere niente eh no dritto no dritto eh troppo ma che cazzo fra si è bloccato eh ho visto hai visto non camminava se l'ho bloccato cioè dobbiamo perdere una palla cioè perdiamo la partita per sto bug cosa sbagliato rimbalzo preso io sono tre sono tre tre eh uh aiutato sì 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 che hai fatto start alla vita dipesa davanti bravo dopo cazzo ok passa 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 bravo calma ci sto no perché ha passato scusatevi un blocco qualcosa no ma che gioco di merda che ha fatto ma che ha fatto c'erano passato era buttato attento fai la finta scopali passa a me eccomi vai vai sì sì alla prima alla prima alla prima alla prima alla prima ragazzi ci credo bellissimo bellissimo 304 buon lavoro 32 340 ma come talò più di ho fatto 14 punti ha dato più soldi a te vabbè artista per secondo nore di più rimbalzo un assist e 6 punti mi ha fatto due a maria vabbè mamma mia cazzi voglio che vittoria che vittoria avanti i prossimi anti grossi che vittoria voglio bellissime stata che i prossimi tipo 399 questo è da click video su youtube prima partita di diver 62 che stava uscendo vele pure l'unica cosa che ho sbagliato era il primo fatto che ho fatto su quella si non di quasi mai saltare fra cieca di quelli poi aspettano che ci sono provato a fare finte ma o è troppo scarse le patine erano pure a fare sai abbiamo vinto prima abbiamo inciveremo dai voglio fare cosa da bossa clip comunque